Solo la dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlino. E' stata riaperta al traffico a doppio senso di circolazione la carreggiata nord della Galleria Montepergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino. A comunicarlo l'ANAS spiegando che il ripristino della circolazione è stato possibile a seguito dell'ultimazione delle verifiche condotte all'interno della cana nord del tunnel e dell'esecuzione di interventi localizzati. Fino a stamane, nelle prime ore della giornata, la galleria interdetta al traffico delle ore 16 di ieri pomeriggio è rimasta chiusa per consentire, dopo la caduta di calcinacci, dovuta anche alle condizioni meteo avverse. Inevitabili le lunghe code che da ieri si sono registrate sul raccordo, il personale dell'ANAS, insieme agli agenti della polstrada, hanno provveduto a deviare il traffico verso la viabilità locale. Chi procedeva in direzione Salerno era obbligato a uscire a Serino e da qui raggiungere Solofra utilizzando strade interne, percorso inverso invece per chi viaggiava in direzione Avellino. In questo caso però gli automobilisti potevano approfittare anche dell'uscita di Torchiati Montoro. Da stamane però non sarà più necessario utilizzare il percorso alternativo, banditi, disagi e traffico, almeno fino alla prossima chiusura.